i profi non si vedono proprio, brava, non è lì merci, però fa ancora male e vabbè un poco di pazienza dovete considerare una moglie quella che ha visto sul suo letto non ha capito niente più si è dimenticata del servizio fotografico si è tosta gli occhiali e non ce l'ha visto in più no no signora Bella, ci ha visto benissimo per poco non mi ammazzava ah l'amur, cosa va a fare l'amur però signori non è l'amur è lo currivo della corna come? perché se è troppo difficile da spiegare eccomi finalmente sei tornato, ma dove sei sta? a comprare donna modella hai fatto metà del tuo dovere ma è scelta siamo tornati alla normalità si è regolato bene il talismano me ne faccio fare uno solo per la scuccia vediamo se è regolato bene bonjour ah, hai messo gli occhiali in formuo? no, per toccare la modella per dire, ma chi ne è roba zion? ma cosa fa? cosciò, fate per fonte vede un buon fan qualsiasi cosa hai detto a te è assurdo ah ah, bravo a capir sei?